Tu il tuo obiettivo ormai è quello di sempre, la devo distruggere, all'immagine di Cristina deve essere distruggerla, ed è quello che fai con tutte le donne con cui esci, e allora non ti va bene niente, la strumentalizzi tutto quello che fa lei per far apparire lei sbagliata, ma l'hai fatto con tutte le donne, il tuo problema è personale con me, se la gente sui social e sui web scrive, ti vogliamo al posto di Gianni, perché tu interpreti male le cose all'interno di uno studio, non da vita con me, non avercela con me, perché io non ho mai detto che faccio l'opinionista qua dentro, è chiaro, tu leggi molto bene, vedi molto bene, sei molto intelligente a vedere determinate cose, non avercela con me, non voglio stare al posto tuo, ti giuro che non l'ho mai letto, non l'ho mai letto, ricordati che io lavoro per Maria da 21 anni, se Maria domani mattina e allora perché ce l'hai sempre con me, Gianni alzati perché questo posto non va più bene per te, perché ce l'hai sempre con me, ma non ti nascondere sempre dietro a Maria, non ti nascondere sempre dietro a Maria, non c'è bisogno che hai sempre la responsabilità a Maria, mi stai tirando in mezzo il fatto di un'opinionista, sto rispondendo per questo, siccome sono assunto da Maria, ho già parlato con te, scusami, tu non sai che non so assunto da Maria, visto che tu appartieni a chi lavora per Maria? Grazie.